Con gli arrivi di verde dell'argentino Joella Costa il Pescara ha concluso un primo importante step di mercato. Considerando anche l'arrivo prossimo del difensore Domizi dall'Udinese si potrebbe anche parlare di trattative in entrata quasi concluse. Ma la società bianca azzurra non vuole fermarsi. Nel mirino dei dirigenti c'è infatti un altro difensore oltre ad un centrocampista che andrebbe a rimpiazzare in organico l'eventuale partenza di Torreira. Per la zona nevralgica del campo resta in piedi la trattativa per Ronaldo Dell'Empoli che piace però anche alla salernitana di Lotito. Resta anche l'interesse per Schaudone che era stato già seguito dal Pescara nella scorsa estate. Sul fronte partenze oltre al possibile ritorno di Torreira in blucerchiato c'è da considerare l'arrivo anche di un altro difensore che potrebbe indurre a questo punto Fornasier a chiedere la cessione. Sanzo Vigna numerosi estimatori in Lega Pro. Il Foggia al di là delle smentite ufficiali farebbe carte false per accaparrarsi l'attaccante pescarese e a proposito di attacco dopo Cappelluzzo in partenza anche Forte che dovrebbe andare a Lanciano. In stand by Cocco se dovesse partire ma solo per un'offerta importante potrebbe arrivare a Pescara da Lidzi Mirko Antenucci originario di Giulianova. Intanto la squadra prosegue la marcia di avvicinamento alla ripresa del torneo e alla gara a Casalinga con il Livorno. Anche oggi sono in programma due sedute di allenamento al Poggio degli Ulivi con Fiorillo e compagni agli ordini di Mister Oddo.